I atleti del Movimento Special Olympics ai deputati hanno raccontato il valore dello sport che cambia la vita. Sentiamo le loro esperienze. Lo sport mi ha cambiato molto grazie a delle persone che mi sono state vicine. E devo rinunciare anche la famiglia, gli amici, i miei allenatori. Il mio sogno è continuare a fare ginnastica. E sperare di essere assoluta anche a lavoro perché è un traguardo importante. E poi anche l'associazione percorso di autonomia per andare a vivere qui insieme all'Olimpice. Io ho conosciuto Special Olympics nel 2009 grazie a un mio amico che mi consigliò di andarlo a vedere a giocare a pallone. Il giorno dopo sono andato a vederlo. Subito ho avuto una forte emozione e il giorno dopo ho voluto iscrivermi.